Vorrei darvi alcuni sentimenti su che cosa non fare per poter creare un legame con i ragazzi. La prima cosa è quella di non presentarsi. Nel momento in cui mi sono trovato ad allenare un nuovo gruppo di ragazzi e non mi sono presentato, ho fatto veramente fatica per riuscire a creare un qualcosa, diciamo un legame anche extrasportivo. E penso che il presentarsi e darsene la mano sia un primo segno di rispetto, o almeno questa è la mia opinione. Sicuramente voler imporsi, cioè il pretendere che i ragazzi rispondino immediatamente a un tuo comando, a una tua richiesta. E l'ho capito dopo che veniamo tutti in campo all'allenamento alla sera dopo una giornata che purtroppo non sempre e non per tutti è stata positiva. Non parlare con i genitori, cioè se non facciamo mai qualche parola con i genitori, purtroppo è come se non esistessimo. Se ci prendiamo veramente a fondo in campo, solamente livello sportivo, i ragazzi non troveranno mai qualcosa in più per cui legarsi a noi e quindi venire dall'allenamento. Non ascoltare i bisogni dei ragazzi, questo è qualcosa che sicuramente non funziona. Essere protagonisti dell'allenamento e parlare, parlare, parlare. Grazie a tutti.